La passione per il mondo elettrotecnica mi ha spinto nel 2015, dopo un'esperienza decennale nel settore, ad avviare un'attività degli impianti elettrici con sede in provincia di Varese. Sentivo fortemente la necessità di creare qualcosa di diverso, che potesse ampliare gli interventi di creazione e manutenzione degli impianti elettrici in cui già operavo, fino all'installazione delle più moderne tecnologie nel campo della domotica. Il focus principale di DA è quello di porsi come partner di fiducia del cliente dalla fase di preventivo e consulenza fino alla realizzazione finale, all'insieme dei valori di competenza, qualità, onestà e trasparenza. Teniamo moltissimo alla soddisfazione del cliente e ci impegniamo nel nostro lavoro per fare in modo che questo avvenga ogni qual volta siamo coinvolti. Per riuscire a garantire degli alti standard qualitativi abbiamo messo a punto un modello aziendale strutturato e costruito un team di collaboratori fidati e specializzati. Ogni nostro intervento inizia con una fase di analisi preliminare a cui segue quella di studio e progettazione della miglior soluzione possibile, per arrivare quindi alla realizzazione finale di un impianto creato a regola d'arte. La nostra azienda è oggi in grado di offrire una vasta gamma di servizi. Realizziamo impianti elettrici civili, progettando e programmando anche sistemi domotici, installiamo e progettiamo sistemi di sicurezza come allarme, videosorveglianza, installiamo e realizziamo impianti di automazione per cancelli scorrevole ad antebattenti, impianti fotovoltaici con batteri di accumulo che garantiscono un'alta resa a un basso costo, impianti industriali e manutenzione degli stessi, ed impianti di illuminazione a LED studiati ad hoc. Da tempo abbiamo anche creato una squadra specifica di frigoristi che si occupa di installare i più moderni e performanti impianti di climatizzazione. Nelle nostre realizzazioni ci avvagliamo di prodotti made in Italy o top di gamma, che selezioniamo sulla base della nostra esperienza pluriannale e di una costante attenzione alle novità di un mercato in continua evoluzione. Tutti i prodotti che installiamo hanno alta efficienza energetica, sono garantiti a lungo negli anni e offrono la gestione da remoto tramite app e smartphone, così da poter abbattere i costi di gestione e assicurare alti standard realizzativi. Questa è DIA Impianti Elettrici.